L'Italia continua a bruciare, quella appena trascorsa è stata letteralmente una notte di fuoco, piove e fuligi nell'aria irrespirabile, l'odore acre, un lunedì nero da dimenticare, incendi ovunque che hanno messo a dura prova Roma, dal centro all'Interland, l'ultimo impressionante ieri sera sulle sponde del Tevere, un grande incendio di sterpaglie nella zona di Parco dei Medici, sempre ieri fiamme altissime sull'Aurelia, esplose alcune bombole di GPL, intossicate 35 persone compresi 4 poliziotti, evacuate famiglie, perfino un centro estivo per ragazzi, una donna e un bambino sono stati portati in codice giallo in ospedale, fiamme poi vicino al grande parco di Villa Panfili sulla Laurentina e in zona Osteria Nuova, paura a Casalotti dove i residenti di un palazzo sono scesi in strada e hanno gettato acqua dai balconi per tenere lontane le fiamme, poi la fuga, terrorizzati all'aeroporto di Ciampino per alcune ore stoppa i voli in arrivo, tutti dirottati su Fiumicino, complice il caldo anche oggi già in corso, nuove interventi per incendi a Roma e provincia, 350 vigili del fuoco impegnati in arrivo, rinforzi da tutta Italia, ma gli incendi non hanno colpito solo la capitale, nel Barese in fumo 300 ettari di boschi, paura nel Chianti in provincia di Firenze dove le fiamme hanno raggiunto alcuni agriturismi, momenti di panico nel Casertano e nel Napoletano, negli ultimi 10 giorni oltre 10.000 gli interventi dei vigili del fuoco per spegnere gli incendi, mille in più dell'anno scorso, la regione più colpita resta la Sicilia, 9.000 gli ettari bruciati negli ultimi sei mesi, un bilancio drammatico per la ministra dell'interno Luciana Lamorgese, questa è una durissima emergenza.